L'attività politico-istituzionale è ancora in ferie, ma i problemi restano. Le vertenze del mondo del lavoro ripartiranno a fine mese. Le emergenze della sanità si aggravano ogni giorno di più, ad iniziare dall'assistenza di base. Boom di presenze negli agriturismo di campagna amica per ferragosto. Con il tutto esaurito si è registrato un incremento di oltre il 20% rispetto al 2021. Il comune di Masainas si è dotato della compagnia barracellare. Alla vigilia di ferragosto ha prestato giuramento il capitano Giorgio Pinna. Con il concerto di Ben Harper si è chiusa l'esperienza di Sardegna con cerchi al Parco dei Suoni. La meravigliosa struttura, nata dal pluripremiato progetto di recupero ambientale attuato oltre 15 anni fa dalla regione, presenta ancora problemi strutturali irrisolti. Ben ritrovati su Canale 40 per questa seconda edizione del nostro telegiornale. Trascorso il ferragosto, l'attività politico-istituzionale è ancora ferma per le ferie agostane ed anche perché le forze politiche sono impegnate nella preparazione delle liste per le prossime elezioni politiche del 25 settembre. Ma i problemi che hanno caratterizzato gli ultimi mesi restano, legati principalmente alle numerose emergenze presenti nel mondo del lavoro e a quelle del sistema sanitario pubblico, ormai vicino al collasso. Non passa giorno che non emergano nuove situazioni di crisi nel sistema sanitario, sia nei servizi ospedalieri sia nell'assistenza medica di base, per la sempre più grave carenza della medicina di base. Il collocamento in pensione di diversi medici ha acuito la crisi, lasciando migliaia di persone prive di assistenza, con conseguenze destinate purtroppo ad aggravarsi sempre più, anche perché nel breve e medio termine non si intravedono soluzioni. Grazie a nuovi farmaci e nuovi trattamenti antitumorali, l'esperienza dell'oncologia dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari registra un aumento della sopravvivenza dei pazienti oncologici. Vediamo insieme il servizio. La struttura complessa di oncologia medica dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari, diretta dal dottor Antonio Pazzola, sta portando avanti uno studio e l'utilizzo di nuovi farmaci e nuovi trattamenti antitumorali, che aumentano la sopravvivenza dei pazienti oncologici e che stimolano il sistema immunitario. La struttura, oltre che dell'attività assistenziale, si occupa di ricerca scientifica e di sperimentazione clinica. Tra i trattamenti antitumorali a pripista si segnala quello per il melanoma metastatico. Si tratta di un tumore che dieci anni fa, spiega l'oncologo, era considerato privo di cure. L'aspettativa di vita media per un melanoma metastatico era di soli nove mesi dalla diagnosi. Oggi lo scenario si è completamente ribaltato e il melanoma può essere trasformato in una malattia cronica. Il melanoma è diventato la seconda neoplasia più diffusa tra gli uomini intorno ai 50 anni e la terza tra le donne nella stessa fascia d'età. In Sardegna sono annualmente riscontrate più di 250 nuove diagnosi di melanoma. Il centro sassarese vede 130 nuovi casi all'anno. Secondo i dati, a disposizione della struttura di oncologia medica oltre il 50% dei pazienti è vivo a cinque anni dalla diagnosi con la combinazione di due farmaci. Alcuni pazienti, aggiunge Antonio Pazzola, dopo sole quattro somministrazioni sono liberi da malattia da oltre dieci anni. La struttura poi è particolarmente attiva nei trattamenti dei pazienti con tumore polmonare metastatico. La fascia d'età più colpita è quella compresa tra i 65 e i 70 anni mentre resta rara sotto i 40 anni. L'oncologia sassarese registra 200 prime diagnosi all'anno e ne prende in carico annualmente circa 150. Lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione clinica ha portato così a modificare l'attività della struttura di oncologia medica dell'azienda ospedaliero universitaria di Sassari. Boom di presenze negli agriturismo Terra Nostra Campagna Amica per Ferragosto che registrano il tutto esaurito con oltre il 20% in più rispetto al 2021 doppiando la media nazionale più 10% rispetto al 2021. Secondo i dati forniti da Coldiretti i vacanzieri hanno scelto di trascorrere il ferragosto in agriturismo all'insegna della buona tavola e del relax all'aria aperta garantendosi comunque protezione all'interno delle strutture in caso di maltempo. L'estate 2022 è un appuntamento importante per il settore dopo due anni di pandemia che sono costati un calo del 34% delle presenze secondo l'analisi Terra Nostra Campagna Amica ma che non hanno inciso sulla struttura del settore che ha mostrato la propria solidità e capacità di adattamento, innovazione e di risposta ai nuovi stimoli del mercato. È stata una settimana di ferragosto intensa per la compagnia barracellare di Arzachena. Gli uomini, coordinati dal capitano Albertino Mele, sono intervenuti in località Lupostu dove un camperista abusivo è stato multato. Da alcuni giorni sostava nell'aria accanto alla spiaggia. Sempre a Lupostu è stato scoperto un accumulo di rifiuti e ingombranti abbandonati, incluso un vecchio gommone. I barracelli sono anche intervenuti per la presenza di cani in spiagge non autorizzate. Sono tre i lidi per Friendly ad Arzachena, Lupostu, La Shumara e Poltuliccia. Andiamo avanti. Sono 19 le domande ammesse al finanziamento regionale di progetti di educazione allo sviluppo sostenibile per l'annualità 2022 per un importo complessivo di 300 mila euro. Riceveranno 15 mila euro ciascuno i comuni di Sant'Ulusurgiu, Sant'Antioco, Onani, Siddi, Lodè, Gadoni, Oristano, Orune, San Veromilis, Elini, Urzulei, Genoni, Osidda, Bitti, Torpe, Vallermosa, Tempio Pausania, Sardara e Baunei. Con questa importante iniziativa la regione rafforza l'impegno sul tema della sostenibilità e della tutela dell'ambiente, spiega l'assessore della difesa dell'ambiente Gianni Lampis. Promuovendo i progetti di educazione allo sviluppo sostenibile e agli stili di vita sostenibili, cerchiamo di veicolare l'importanza di creare un mondo più sostenibile, accrescendo la conoscenza, l'educazione e i valori che ruotano attorno alle tematiche ambientali anche e soprattutto tra le nuove generazioni. Bentornati in studio. Alla vigilia di Ferragosto ha presentato giuramento il capitano della nuova compagnia barracellare di Masainas. Vediamo insieme il servizio curato da Giampaolo Cerronis. Giorgio Pinna è il capitano della nuova compagnia barracellare del comune di Masainas. Alcuni giorni prima di Ferragosto il comandante delle guardie del comune in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza conferita dal prefetto di Cagliari ha prestato giuramento davanti al sindaco Gianluca Pittoni e all'assessore della transizione ecologica ambiente sport e spettacolo Francesco Secci. La nascita della compagnia barracellare e la nomina del suo comandante ha spiegato il primo cittadino nasce dalla necessità di iniziare il vero processo di transizione ecologica partendo dall'informazione e dalla formazione in ambito di sostenibilità ambientale. Questo è il primo compito che il Consiglio Comunale gli ha fatto eco all'assessore Francesco Secci ha affidato alla compagnia e al suo comandante. La comunità ha necessità di essere informata sui temi di sostenibilità ambientale in modo da riuscire ad apprezzare tutti gli aspetti che rendono un territorio vulnerabile. Tra i compiti della nuova compagnia barracellare infatti, oltre al monitoraggio sul rispetto delle norme ambientali su tutto il territorio comunale ci sarà anche quello di prestare supporto in caso di eventi calamitosi. E, cosa non meno importante, grazie alle funzioni di Polizia Locale, Urbana e Rurale oltre che le funzioni di Polizia Amministrativa di prestare supporto anche all'unico agente di Polizia Municipale presente in organico a Masainas. La compagnia barracellare e il suo nuovo capitano avranno d'ora in avanti il compito di vigilare su un territorio di oltre 2.200 ettari assai particolare dal punto di vista ambientale e del rischio idrogeologico. A breve, dopo il vaglio delle candidature da parte del prefetto di Cagliari si costituirà formalmente la compagnia che avrà, almeno all'inizio, una dotazione di 10 persone comandante compreso. Una nuova navetta completamente elettrica è stata consegnata da Enelix alla vigilia di Ferragosto al sindaco di Iglesias Mauro Usai. La navetta da 8 posti attrezzata anche per il trasporto di una persona disabile consentirà al comune di Iglesias e dalla società in house Iglesias Servizi di integrare potenziale servizio di trasporto già attivo per il collegamento tra Nebida, Masua, Masua Spiaggia e Porto Flavia. Un'iniziativa di grande importanza sottolinea il sindaco Mauro Usai grazie alla collaborazione con Enelix che consentirà ad Iglesias di avere per questi mesi un nuovo mezzo completamente elettrico e ad emissioni zero per potenziare i trasporti verso alcuni tra i siti turistici di maggiore interesse. Per Ignazio Cordella responsabile marketing e bus di Enelix Iglesias per i prossimi mesi rappresenterà il primo comune della Sardegna a far parte di questa iniziativa rivolta alla promozione della mobilità sostenibile. Dopo due anni difficili condizionati dalle restrizioni per la pandemia da coronavirus a Porto Scuso da venerdì 19 a domenica 21 agosto torna la fiera del sud-ovest Sardo. Vediamo il servizio. Tre giorni di incontri appuntamenti stand espositivi e spettacoli dopo due anni complice lo stop imposto dalla pandemia ritorna a Porto Scuso la fiera del sud-ovest l'evento organizzato dall'omonima associazione dal comune di Porto Scuso dall'associazione Safabri che dal gruppo Fox Saturri scenario della manifestazione che andrà in scena da venerdì 19 a domenica 21 agosto sarà il lungomare della cittadina sulcitana si inizia venerdì alle 19 con l'inaugurazione degli stand e il saluto delle autorità poi via gli spettacoli sabato 20 gli stand espositivi apriranno alle 10 alle 11 esposizione delle vespe d'epoca alle 12 largo e fornelli per la preparazione di piatti e di ricette per tutti i gusti a partire dalle 19 intrattenimento con Stefano Masciarelli e il duo comico Cosso e Zara alle 22 via il concerto dei Mattia Bazar domenica per tutta la giornata ci sarà un intrattenimento itinerante a seguire appuntamento con la musica a partire dalle 21 con il DJ set di Ricky M e alle 22 concerto Ride Gorilla con Luca Martelli durante l'intera Kermesse sarà possibile visitare la Tonnara di Sobrano sul lungomare sono previsti 120 stand espositivi alcuni provenienti dal resto d'Italia obbisti artigiani berifici artigianali street food commercianti e infine giochi gonfiabili per i più piccoli con il concerto di Ben Harper di martedì 9 agosto 2022 si è chiusa l'esperienza di Sardegna concerti al Parco dei Suoni e delle Arti del Mediterraneo di Rio Lassardo la meravigliosa struttura senza eguali in Europa dedita ad eventi culturali di spettacolo nata dal pluripremiato progetto di recupero ambientale attuato oltre 15 anni fa dalla regione Sardegna il servizio una decisione sofferta quella di Sardegna concerti comunicata dagli organizzatori a poche ore dalla conclusione dell'ultimo grande successo andato in scena con lo spettacolo di Ben Harper martedì 9 agosto scorso considerato il grande impegno profuso negli ultimi sette anni con l'organizzazione di grandi eventi che hanno visto susseguirsi sul palcoscenico star internazionali dai Negramaro a Carmen Consoli a Max Gazze solo per citarne alcuni una decisione maturata già dallo scorso anno ma che è stata rinviata sino alla conclusione del concerto di Ben Harper per non deludere le aspettative dei 5.000 appassionati che hanno gremito il parco dei suoni dopo tre anni di ammirevole e paziente attesa è straordinariamente ripagata dalla performance dell'artista statunitense la nostra grande soddisfazione hanno detto gli organizzatori non sminuisce tuttavia il rammarico derivante dal fatto che in occasione dell'organizzazione complessiva dell'evento sono emerse diverse lacune che hanno causato notevoli disagi agli spettatori presenti in particolare alla categoria di utenza dei disabili in evidente contrasto con la nostra policy che da sempre riserva loro la massima attenzione assumendoci integralmente la responsabilità di tutto ciò hanno aggiunto gli organizzatori e scusandoci vivamente con tutti coloro che ne hanno patito le conseguenze dobbiamo comunque sottolineare che le carenze organizzative verificatesi in occasione del concetto di Ben Harper altro non sono che la logica conseguenza delle criticità economiche e logistiche che tuttora nonostante i poderosi sforzi compiuti negli ultimi sette anni impediscono a questa struttura tra le migliori in Europa di svilupparsi come meriterebbe da qui la drastica decisione di Sardegna Concerti di gettare la spugna auspicando che anche questo ulteriore gesto possa contribuire a richiamare l'attenzione di chi istituzionalmente dovrebbe avere cura e impedire che il parco dei suoni e delle arti di Riola Sardo torni a diventare nuovamente una discarica Bentornati in studio nuovo appuntamento con Notti Insieme in Piazza Roma a Carbonia in Contemporanea nello splendido scenario dell'Anfiteatro di Montesirai si terrà la nuova antiprima del Festival Internazionale ai confini tra Sardegna e Jazz dalle 21 con il concerto del duo formato dal sassofonista barese Roberto Ottaviano ed il pianista inglese Alexander Hawkins l'evento è a cura dell'associazione Puntaggiara Jazz Festival il biglietto ha il costo di 5 euro domenica 28 agosto a Palmas frazione di San Giovanni Suergiu presso il piazzare della chiesa parrocchiale Vergine delle Grazie con inizio alle ore 21 e 30 si terrà il concerto vocale strumentale Timeless Melodies Viaggio in musica fra le melodie senza tempo tenuto dal gruppo Cantico dal mare il concerto ad ingresso gratuito è promosso e attuato dall'associazione culturale musicale Ennio Porrino di Elmas con il contributo della regione la compartecipazione finanziaria della scuola civica di musica Dontori Armeni di Sant'Antio e San Giovanni Suergiu e la collaborazione del comune di San Giovanni Suergiu dopo l'anteprima del 24 luglio con il concerto di Carlos Pignana il 18 agosto riparte la 13esima edizione di Art Tango e Jazz Festival rassegna concertistica organizzata dall'associazione Anton Stadler sotto la direzione artistica di Fabio Furia bandoneonista e compositore sarà un viaggio profondo nel mondo del tango accompagnato dal bandoneon che vedrà sul palco ad Iglesias presso la miniera di San Giovanni nel piazzale Grotta Santa Barbara il 18 agosto edunque domani alle 21.30 i virtuosi dei Berliner Philharmoniker che terranno un concerto dal titolo Symphonic Tango lunedì 22 agosto invece alle ore 22 il suggestivo scenario della tonara sovrano di Porto Scuso ospiterà i Novaphonic Quartet per un concerto dal titolo Contemporari Tango andiamo avanti è uscito nella libreria a Milano Il mondo non cambia il nuovo libro dello scrittore sardo Thomas Melis ambientato in una metropoli alle porte dell'apocalisse Milano Il mondo non cambia racconta le relazioni tra le grandi organizzazioni criminali nazionali e i mille volti della malavita multietnica etnica di Milano i sogni di successo dei ragazzini cresciuti ascoltando trap nei casermoni popolari della periferia e gli affari sporchi dei faccendieri che muovono milioni di euro dagli uffici open space con vista sul Duomo in un'atmosfera oscura che prelude alla più grande tragedia del ventunesimo secolo la compagnia artisti fuori posto del comune di Desulo con la collaborazione della comunità montana del Gen Argentu e Mandrolisai e del centro commerciale naturale Gen Argentu Desulo sono pronti ad alle vie al quarto festival in pronte i teatri della montagna da domani 18 al 21 agosto domani alle 19 aprirà il festival alla compagnia giro girando spettacoli con bubble show di Andrea Fiori in piazza Sant'Antonio il 19 agosto nello spazio all'aperto dell'istituto comprensivo alle 21 e 30 lo spettacolo tributo agli oasis Gallagher con Filippo Salaris e Juri Urru il 20 agosto alle 21 e 30 nel cortile dell'istituto comprensivo andrà in scena l'attore Piero Murenu nel suo monologo Polvere il festival terminerà domenica 21 agosto alle 19 con gli eroi della Sardegna siamo in chiusura dal 22 agosto a Sant'Antioco va in scena la terza edizione del torneo di Tennis Fit Isola di Sant'Antioco organizzato dall'Associazione Tenistica e Dilettantistica Isola di Sant'Antioco con il patrocinio del comune il torneo dotato di un monteprimi di 600 euro è articolato in un tabellone per il singolare maschile ed uno per quello femminile da alcuni giorni sono formalmente aperte le iscrizioni la scadenza per i classificati da 4 in IC a 3.5 dovranno essere regolarizzate entro sabato 20 agosto e così pure per il resto dei quarta categoria i terza categoria invece avranno tempo sino al 27 agosto le iscrizioni si potranno perfezionare esclusivamente attraverso la pagina myfit.federtennis.it ulteriori informazioni sono disponibili contattando il numero 349 15 87 367 oppure inviando una mail all'indirizzo tc.santantioco chiocciola virgilio.it nata nel 2002 l'associazione tenistica di retantistica isola di Sant'Antioco guidata dal presidente Stefano Pitau conta tra le sue fila più di un'ottantina di soci e con questa notizia di sport si chiude qui anche la seconda edizione del nostro telegiornale odierno io vi lascio ora in compagnia delle previsioni del tempo per la giornata di domani e con Noasa in corso il nostro telegiornale in lingua sarda grazie ancora per essere stati con noi e per l'attenzione io vi do appuntamento alle prossime edizioni del nostro telegiornale e vi auguro una buona serata arrivederci a presto